Nell'ambito delle attività di contrasto alla diffusione e al consumo di sostanze stupefacenti, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari, coordinati dalla locale prefettura, hanno sottoposto a sequestro oltre 70 grammi di sostanza stupefacente. Una operazione effettuata durante il consueto controllo per la prevenzione di episodi legati al fenomeno della malamovida, dove la sostanza stupefacente del tipo hashish, marijuana e cocaina è stata individuata e segnalata dalle unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza, che non perdono occasione per confermare l'alto livello addestrativo raggiunto. Il quotidiano impegno delle fiamme gialle è quello di supportare la tutela della salute pubblica e di agire concretamente anche per la prevenzione dell'incidentalità stradale, spesso causata proprio dall'uso di certe sostanze nel territorio di Cagliari e provincia.